La terza edizione del premio Città di Prato raddoppia i riconoscimenti. Due sono state assegnate a studenti della laurea magistrale e due, per la prima volta, ad altrettanti della triennale. In totale la commissione, formata da membri del PIN dell'Università di Firenze e del Comune di Prato, ha esaminato 24 tesi. Tutte hanno come filo conduttore Prato. Da un lato premiare dei giovani meritevoli che hanno dedicato degli studi importanti di ricerca alla nostra città. Dall'altra permettere di intercettare tutte le ricerche, tutte le tesi di laurea triennale magistrali che vengono realizzate a livello nazionale e che vengono dedicate a Prato. Si spazia dal tema del reciclo a quello del restauro di un'antico bastione della città, alla realizzazione di un dolce pan di stracci ispirato all'arte del cenciaiolo. Per terminare con un approfondimento sull'agricoltura analizzata nell'ottica della sostenibilità. Sul paradigma della sostenibilità e dell'economia circolare, utilizzando le lenti e gli strumenti di ricerca dell'antropologia e dell'etnografia. Di restauro di agnostica e rilievo del bastione dei giudei in Prato, la messa in sicurezza delle apparecchiature murarie e poi l'inserimento di un progetto per la città all'interno del terrapieno. Creare un nuovo dolce che fosse un po' un tributo alla città di Prato e a quello che è il suo distretto tessile. Cercare di creare un modello che non vada ad impattare sull'ambiente e consenta quindi uno sviluppo sia ambientale, economico ma anche sociale. Negli anni qualità e quantità dei lavori sono decisamente migliorati. Dal punto di vista della città probabilmente perché sviluppa una serie di aree e di settori che possono avere una ricaduta importante sul territorio. Grazie.